Allora, la volta scorsa abbiamo parlato un po', abbiamo fatto una carrellata sui possibili materiali che vengono utilizzati nella costruzione delle macchine elettrici. Abbiamo visto soprattutto materiali isolanti. Abbiamo visto che ci sono tre materiali isolanti, tre tipi di materiali isolanti, quelli che servono ad isolare il grame col grame, il grame col ferro e il ferro col ferro. E questo perché il grame e il ferro, che sono i due principali componenti, diciamo così, gli elementi conduttori della corrente elettrica e gli elementi conduttori del flusso magnetico, sono i due principali elementi che vengono utilizzati nella costruzione e realizzazione dei convertitori elettromeccanici, cioè di quegli apparetti, di quegli sottosistemi che sono utili alla conversione dell'energia elettrica in energia meccanica e viceversa. E come già vi ho accennato, tutte le macchine elettriche hanno la possibilità di essere reversibili, anche se qualcuna di esse, diciamo così, è più adatta a funzionare in un certo modo piuttosto che in un altro. Quindi, i materiali conduttori e i materiali magnetici a questo punto diventano i principali costituenti di una macchina elettrica, anche se, e questo ve lo dico per farvelo ricordare, ciò che condiziona la vita di una macchina elettrica è il materiale isolante, cioè l'unico materiale che si degrada con il tempo è il materiale isolante, più che con il tempo con la temperatura, cioè una dipendenza forte ovviamente tra tempo e temperatura. Quindi ci sono anche altri elementi in una macchina elettrica con i meccanici, i cuscinetti, eccetera, che sono sottoposti a misura, a degrado, eccetera, però dal punto di vista, diciamo così, elettromagnetico, ciò che condiziona forsemente la vita di una macchina è il materiale isolante. Una macchina che viene fatta funzionare a 200-250 gradi, eccetera, muore dopo un po' di tempo perché il materiale si ha in perdere le sue caratteristiche di isolamento. mentre in fame è di ferro, o per meglio dire, i materiali conduttori della corrente elettrica, i materiali conduttori del flusso mediettivo, diciamo così, hanno caratteristiche abbastanza longevi, non è che si degradano più di tanto con il tempo. Ora vedremo questi due materiali, quali sono le loro principali caratteristiche, queste due categorie di materiali, quali sono le loro principali caratteristiche dal punto di vista, quindi sui materiali magnetici, quali sono le caratteristiche che vengono preferite, cioè che cosa fa di un materiale, un materiale utile ad essere utilizzato in una macchina elettrica dal punto di vista del circuito magnetico e cosa fa anche il materiale conduttore. Allora, i materiali magnetici, la loro grande requisito più importante che fa appunto di questo materiale, un materiale utile alla realizzazione del materiale, che è la permeabilità, ossia il rapporto che c'è tra il campo H e l'induzione magnetica B che viene prodotta all'interno del materiale quando appunto questo materiale è sollecitato da un certo campo magnetico H. Vi ricordo dall'elettrotecnica che la permeabilità mu è il rapporto tra puntuale su H e B. La permeabilità mu, ve lo ricordato anche meglio di me, è il prodotto tra la permeabilità del moto e la permeabilità della permeabilità. Quindi, a questo punto, se vogliamo che un determinato materiale abbia la capacità di produrre un elevato valore di induzione B Quindi, quando sollecitato da un certo campo H, è evidente che deve avere un elevato valore di permeabilità della via. La permeabilità relativa è un numero che quindi può andare da 1, sostanzialmente, 1 perché tecnicamente potrebbe essere anche inferiore di 1 perché ci sono alcuni materiali che, diciamo così, hanno delle caratteristiche che sono opposte a quello dei materiali femminili, però nel nostro caso, nella tecnologia comune, la permeabilità delle live è un numero che va da 1, che è ovviamente quello dell'aria, a valori molto elevati, possono essere 50, 100, 200, 300, Quindi, vuol dire che, rispetto all'aria, quel determinato materiale è in grado di produrre un campo di induzione B 100 volte superiore rispetto al campo di induzione B. Quali sono i materiali che, in natura, permettono di avere queste caratteristiche, che hanno queste caratteristiche? Il materiale più comune è ovvio che possono trovarsi vari elementi nella tavola periodica degli elementi e, naturalmente, anche tante leghe che possono avere queste caratteristiche. Però, quello che è importante, come al solito, è il rapporto e il costo di questi materiali. E il materiale che, in natura, è estremamente diffuso sulla Terra, che ha caratteristiche di questo tipo, che è il ferro, già lo sapete dall'elettrotecnica, che ha queste determinate caratteristiche. Naturalmente, il ferro, però, ha anche alcune caratteristiche che, però, non sono gradite nel momento in cui lo usiamo come circuito magnetico di una macchina elettrica. E sono la sua conducibilità elettrica. Noi vogliamo che il ferro sia fortemente conduttore dal punto di vista magnetico scusate come si usa questa parola, conduttore, perché quando uno parla di conduttore pensa alla corrente elettrica, in questo caso qui stiamo parlando di flusso magnetico, però ha anche, purtroppo, la caratteristica di farsi percorrere dalla corrente elettrica. E questa qui è una cosa che noi non vorremmo. perché insieme alla possibilità di produrre flusso magnetico il ferro, purtroppo, tende a riscaldarsi quando all'interno di questo materiale, ovviamente per effetto Joule, si producono determinate correnti elettriche. Quindi per effetto Joule, noi vorremmo che ovviamente il materiale non soffrisse, non avesse queste caratteristiche perché lo vogliamo usare solo come circuito magnetico e non come circuito elettrico. E allora come si fa a, diciamo così, a ottenere il giusto compromesso tra conducibilità magnetica, ossia permeabilità magnetica, ossia una terminologia un po' più corretta, tra permeabilità magnetica e conducibilità elettrica. Andiamo a vedere quali sono i fenomeni che fanno riscaldare il ferro. Come abbiamo visto ci sono le correnti, i cosiddetti correnti parassini, che si instaurano nel ferro pieno nel momento in cui all'interno di questo materiale si verificano dei cambi magnetici variabili, quindi variabili nel tempo. Questi fenomeni si sottolineano sotto il nome di correnti parassite e abbiamo due tecniche che ci permettono di ridurre il fenomeno di riscaldamento causato dalle correnti parassite. uno è una tecnica metallurgica, cioè ricorrere a delle leghe che ci permettono di aumentare la resistività del ferro. E allora che cosa si fa? Si fanno delle leghe in ferro silicio. La lega del ferro silicio dà la possibilità di aumentare la resistività del ferro e quindi, diciamo così, dare un ostacolo in più alle correnti che si producono all'interno del circuito magnetico. Un'altra tecnica è quella di ostacolare questi correnti parassite interponendo degli strati isolanti all'interno del circuito magnetico, quindi realizzare il circuito magnetico in modo laminato, quindi con tanti lamierini. Ciascun lamierino rispetto all'altro deve rimanere però isolato. Per cui abbiamo visto la volta scorsa che c'è la possibilità, cioè si devono utilizzare dei materiali isolanti tra ferro e ferro. Questo si intendeva la volta scorsa come il materiale isolante tra ferro e ferro, cioè uno strato di vernice isolante di resina, eccetera, che permetta di isolare i vari lamierini con i quali si realizza il circuito magnetico inferno. E quindi queste sono le due strategie, cioè la strategia metallurgica e la strategia quasi geometrica, meccanica, per ridurre le correnti parassite. Per l'aggiunta del filicio inoltre ha un ulteriore fatto positivo quello di permettere di aumentare anche la permeabilità del ferro entro certi limiti. Quindi, ancora più meglio, noi stiamo contenti di questo fatto qui. Per cui il lamierino che viene utilizzato per la realizzazione dei circuiti di magnesio e di macchine si fa con lega in ferro silicio, di solito, perché poi il silicio costa poco, non è che ci viene accostato. Allora, aumentare il silicio, questi fattori migliorano, però arrivato a un certo punto non possiamo aggiungere più del 3% di silicio, perché altrimenti il materiale che otteniamo, la lega che otteniamo, comincia a diventare estremamente fragile e la fragilità di un materiale nella realizzazione meccanica di un oggetto è un fatto purtroppo negativo, perché lo rende non lavorabile. Di solito i lamierini che vengono prodotti in ferro silicio poi dopo devono essere ritagliati, punzonati, e cioè bisogna fare dei fori, insomma bisogna lavorarli. E se io faccio delle leghe di ferro silicio con una quantità di silicio che supera il 3%, questo oggetto qui comincia a spezzarsi, questo lamierino comincia ad essere dopo lavorabile e diventa fragile per cui non è più adatto alle lavorazioni meccaniche. Altri tipi di leghe, insieme a ferro sulla terra è abbondante, è nickel, quindi cheppure ha ottime caratteristiche ferro-magnetiche, per cui altre leghe ferro-nichel e anche il 72-83% come vedete dalla radia positiva possono essere utilizzate in modo molto, diciamo così, conveniente per produrre questo tipo di materiale magnetico. Un'altra caratteristica negativa, cioè il ferro non solo, come voi sapete dall'elettro, non si riscala solo per le correnti per la site ma anche per i fenomeni di isteresi, cioè il materiale magnetico quando viene sollecitato da un campo H, tipo sinusoidato per esempio, voi vi ricorderete dall'elettro tecnica che il valore di induzione B non è proporzionale al valore di H, quindi non è una retta che lega in modo proporzionale H e B, ma è una cosa più complicata. C'è una magnetizzazione residua B con R, c'è una cosiddetta forza coercitiva HC, ci sono vari parametri che identificano il cosiddetto ciclo di isteresi, quindi c'è anche un fenomeno di saturazione nel cui il valore dell'induzione B non sale oltre determinati valori e che cosa sta ad indicare questo fattore qui? sta ad indicare che durante il percorso del ciclo di isteresi è presente uno sviluppo di energia in termini di calore, cioè una dissipazione di energia in termini di calore. questo fatto qui in un certo modo è abbastanza difficile da risolvere, perché mentre le corrette di perassite noi avevamo trovato anche il metodo per ostacolare, qui dobbiamo andare a trovare l'unica strada e rimane ancora quella metallurgica, cioè andare a trovare delle leghe particolari che in qualche modo riescono a ridurre l'area sottesa all'interno di questo ciclo di isteresi, perché quell'area lì in qualche modo è proporzionale alla quantità di, diciamo, alla potenza che viene dissipata all'interno del nucleo, all'interno del materiale, e quindi facendone l'interale ovviamente poi all'energia che uno perde in un determinato intervallo di tempo. Ora, perdite per isteresi per correnti perassite in certo modo abbiamo la necessità di farne una misura, trovare un parametro che ci permetta di capire, a secondo del numero, se un determinato materiale è migliore o peggiore dal punto di vista delle perdite. E quindi viene introdotto la cosiddetta cifra di perdita che, come ho scritto nella diapositiva, è la potenza, ovviamente potenza attiva, potenza attiva assorbita da un chilogrammo di materiale sollecitato da un valore di induzione sinusodale a 50 Hz, pare dell'ambienza di un tesla, valore di picco. Allora, questo numero è appunto una cifra di perdita, è un numero che fa capire quanto un materiale si riscalda di più rispetto a un altro perché ha determinate caratteristiche diverse, perché ha certe caratteristiche che sono diverse. non è una caratteristica solo della lega, ma è proprio una caratteristica anche dell'intero materiale, nel senso che se io ho un blocco realizzato alla Mierini, quel blocco alla Mierini può avere una cifra di perdita migliore, quindi più bassa, rispetto allo stesso blocco con lo stesso materiale realizzato in ferrovia. quindi nella cifra di perdita ovviamente rientra tutta la caratteristica del Mierini, anche il fatto se è fatto in Mierini oppure no, oppure di quanto è lo spessore del Mierini, più sottile del Mierini, di solito migliore è la cifra di perdita, più bassa è la cifra di perdita, quindi il fatto che sia realizzato con il Mierini, la cifra di perdita ne tiene conto di questo modo. Ok, quindi questo pertorno riguarda i materiali magnetici, ora salto alcune diapositive per arrivare soltanto a questa, che è una rappresentazione di questa curva, cioè della curva di prima magnetizzazione che lega il campo H all'induzione B, perché ha una forma leggermente diversa rispetto a quella che io malamente ho disegnato dalla magna, perché l'asse delle ascisse è rappresentata in forma logaritmica, quindi vedete che parte da un determinato valore di campo magnetizzazione che si esprime in Ampere sul metro, e sull'asse delle ordinate invece è riportato il campo B, espresso in Tesla. Naturalmente questa rappresentazione è, diciamo, compressa perché è in forma logaritmica e per cui voi vedete un paio di solessi, c'è un cambio di derivata qui, un altro cambio di derivata qui, ma è soltanto una questione di, diciamo così, rappresentazione geometrica e logaritmica, in realtà quella curva può essere simile a quello che ho disegnato io, quindi esiste effettivamente una saturazione, mentre qui sembrerebbe avere l'impressione che il campo B poi dopo salga vertiginosamente, chissà dove rimane così. Se ci sono domande su questi argomenti, posso andare avanti? Ora, parliamo dei materiali, abbiamo visto in realtà soltanto un paio di diapositive sui materiali magnetici, parliamo un attimo dei materiali conduttori. Già prima vi ho detto che questi sono le due principali categorie di materiali che vengono utilizzate nelle macchine elettriche, in realtà in qualunque macchina elettrica il campo di corrente, cioè la corrente che circola nei conduttori, e noi usiamo spesso la parola rame, perché ovviamente è ovvio che il rame, diciamo il materiale principe nell'utilizzo utilizzato per realizzare questo circuito, vi disse una volta scorsa anche in certi casi l'alluminio, di rame, e il ferro lavorano, sono disegnati, sono messi tra di loro concatenati all'interno di una macchina elettrica, come se fossero gli anelli, due anelli di una catena. Ora, la geometria di due anelli di una catena voi ve l'immaginare, è molto facile da immaginare, da comprendere, da capire. In realtà poi dopo questa geometria può essere cambiata in funzione di determinati requisiti, non ultimo il fatto che una macchina elettrica deve poter girare, due anelli di una catena tra di loro sono concatenati e non possono ruotarle se non in pochi gradi, no? Invece in una macchina elettrica si deve avere la possibilità che un elemento della macchina elettrica deve poter ruotare continuamente proprio per produrre l'energia meccanica. Quindi già solo questo fatto comporta una maggior complessità delle geometrie con le quali il campo di corrente e il campo magnetico tra di loro si concatenano, ma poi alla fine si tratta pur sempre di un concatenamento vero e proprio tra i due oggetti. I materiali conduttori quindi utilizzati anche loro devono poter avere dei requisiti, quindi certo non posso usare legno per una stupidaggine per fare un materiale conduttore. E naturalmente qual è la caratteristica di un materiale conduttore? In certo senso è un po' inversa e contraria a quella di un materiale ferromagnetico. Qui abbiamo bisogno di una bassa resistività, sempre perché vogliamo fare in modo che le perdite giallo siano poche. In questo caso qui, visto che deve circolare una determinata corrente del materiale conduttore, più bassa è la resistività e meglio ottengo questo, più basso saranno le perdite per effetto giallo. Anche in questo caso però ci vuole la lavorabilità. Ecco perché il rame, che è un materiale estremamente utile ed è facile da lavorare, è facile da realizzare e respire, quindi facile da costituire delle matasse da poi inserire nelle cave, eccetera eccetera, nel rame ovviamente la fate aprir in gigante, se ovviamente non è proprio un materiale assolutamente economico, sarebbe preferibile l'alluminio in determinata occasione, però non ha quella lavorabilità dell'alluminio che invece ha il rame. E ovviamente l'alluminio non ha quella resistività così bassa che ha il rame. Il rame di solo viene utilizzato per il rame elettrolitico perché è un rame particolarmente puro. La resistività del rame aumenta in modo abbastanza critico nel momento in cui il rame prodotto, secondo la metodologia di produzione del rame, ha delle impunità. Quindi se l'esame è puro, naturalmente costerà molto di più, infatti in commercio si trovano varie categorie di questo materiale, uno poi dopo deve scegliere quale andare ad acquistare in funzione delle caratteristiche, delle prestazioni che poi la macchina elettrica dovrà avere. L'esame elettrolitico è tra i migliori, ma naturalmente però ovviamente, è inutile che ve lo dico, è quello che costa di più. Ci possono essere altri tipi di materiali che possono essere utilizzati laddove è richiesta una maggior resistenza meccanica, per esempio l'ottone, oppure appunto l'alluminio, lì dove a volte è richiesta una maggior resistività. può sembrare strano, ma ci sono dei casi in cui li vedremo più avanti, soprattutto nelle macchine asincrone, nel circuito di rotore delle macchine asincrone, a volte è richiesta una maggior resistività degli aggreggimenti, per cui a quel punto l'alluminio può essere utilizzato molto convenientemente. una cosa fondamentale e importante è la dipendenza della resistività con la temperatura. anche questa relazione non dovrebbe essere nuova, dovrebbe sostanzialmente ricordare. Questa è una relazione dell'equazione di una retta, sostanzialmente, perché la relazione dice che la resistività Rho, funzione della temperatura T, parte da un valore iniziale che è Rho con 0, ordinata all'origine, dopodiché aumenta linearmente con la temperatura e quindi è facile da ricordare questa relazione, basta che vi ricordiate dal punto di vista grafico come la vogliamo esprimere. generalmente l'efficine di argolare di questa retta qui è indicato con alfa, lo strano da qua potrebbe essere indicato con altri simboli, però insomma rappresenta appunto la caratteristica di quel materiale di aumentare la sua resistività all'aumento della temperatura. Giusto per darvi un'indicazione approssimativa di che cosa si intende molto spesso su manuali, troverete il concetto di portata, un po' come se fosse la portata di un tubo che porta acqua. Ci sono tubi più piccoli che hanno una portata in litri al secondo, ecco, perdonate il paragone, però anche in questo caso qui si potrebbe parlare di portata. Millimetri, questo qui è la portata, è una tabella, poi dipende anche dalla qualità del rame e da altre caratteristiche, ma tutto sommato è interessante vedere che la portata in ampere di un filo di rame, un cavo di rame sospeso in aria, quindi libero di raffreddarsi e di, diciamo così, trasferire il calore prodotto per effetto già nell'ambiente esterno, soprattutto fondamentalmente per convezione, più che per altri tipi di trasferimenti di temperatura. Quindi da 1,5 mm abbiamo circa le 24 ampere che rappresenta, se fate i calcoli della sezione, quindi il rapporto tra 24 e 1,5, rappresenta circa 16 ampere a millimetro quadro. Uno si aspetterebbe che la densità di corrente legata alla portata della corrente fosse una costante, si aspetterebbe che potrebbe essere una costante, invece non è così. Questo perché naturalmente più massiccio il conduttore, più aumenta il rapporto tra la sezione del conduttore e la sua superficie, quindi il volume di questo conduttore e la sua superficie, quindi diventa sempre più difficile dissipare il calore. Per cui la portata, la densità di corrente si riduce con la dimensione del conduttore. Va da sé che questa tabella non ha grosso significato per i conduttori che sono messi uno a fianco all'altro, per i conduttori che fanno parte di una matassa, per i conduttori che sono inseriti nelle cave di una macchina elettrica, perché lì la dissipazione del calore ovviamente non avviene solo per convezione naturale, anzi direi che per conduzione naturale non avviene per niente, ma avviene per conduzione, cioè del materiale, del conduttore tramite l'isolamento verso il ferro della macchina e a sua volta dal ferro della macchina fino alla superficie esterna della macchina. Quindi è tutta una, diciamo così, un circuito termico attraverso il quale ci sono varie resistenze termiche di cui teoricamente si deve tenere conto per calcolare come e quanto calore posso dissipare dal conduttore fino all'esterno. Però questa tabella quindi è giusta indicativa di queste caratteristiche. Benissimo, allora quindi abbiamo parlato di circuiti magnetici, un po' dei materiali magnetici e un po' dei materiali conduttori. Come già vi avevo detto, a queste tre categorie, cioè gli isolanti, i materiali conduttori e i materiali magnetici, si aggiunge anche quella dei magneti permanenti. Magneti permanenti che, diciamo, sono entrati di prepotenza nella realizzazione tecnologica delle macchine elettriche da alcune decenni a questa parte. Prima non conveniva utilizzare magneti permanenti nelle macchine elettriche. Qualcuno dice, ma allora, a posto dei magneti che si usava? In realtà, per far funzionare una macchina elettrica oppure un dispositivo elettromeccanico, è necessario produrre un flusso, un flusso magnetico, all'interno di un circuito magnetico. Allora, il modo più banale che ognuno di noi, al quale ognuno di noi può usare per produrre un flusso magnetico, è quello di, come vi ho detto poco fa, concatenare due circuiti, uno elettrico e uno magnetico. Per esempio, disegno un circuito magnetico, che potrebbe essere questo, e concateno un circuito elettrico, che potrebbe essere questo qui. Qui ci possono mettere un generatore di corrente e stimolare questo circuito elettrico in una determinata corrente. Allora, dalle leggi dell'elettrolettrica voi mi insegnate che l'induzione di è uguale, proporzionata al campo H, il campo H è legato alla forza magnetomotrice prodotta da questo circuito magnetico, perché c'è un'altra legge che mi dice che il numero di spire N moltiplicato dal corrente I, quindi N per I, che è la forza magnetomotrice, è uguale adatta per la lunghezza media del circuito magnetico. È una legge, diciamo così, approssimativa, perché ovviamente le linee di flusso di questo circuito magnetico si svilupperanno non necessariamente in modo uniforme all'interno del circuito magnetico, addirittura non necessariamente tutte nel circuito magnetico, possono esserci delle linee di flusso che se ne vanno fuori dal circuito magnetico, però sostanzialmente questa legge è abbastanza rispettata se la permeabilità relativa di questo circuito è sufficientemente alta. E quindi, andando a sostituire H in questa relazione, abbiamo che questa è la nu per N per I diviso L con N. Quindi, come vedete, c'è alla fine una relazione molto semplice che lega il valore dell'induzione B al valore della corrente I, è una relazione anche di proporzionalità, perché sostanzialmente mu, che è 1 da mu con 0 per mu con N, è una costante, una cosa più affissata per le caratteristiche del circuito magnetico, quello è che quello rimane. L'uomo di spire N, oppure è una costante, la lunghezza media del circuito magnetico è una caratteristica geometrica e se non si deforma questo circuito magnetico, allora c'è anche quello che è una costante. Quindi c'è un legame di proporzionalità tra il campo B che si produce all'interno di questo circuito magnetico e la corrente che è la prossima. Questo si chiama metodo, che non si chiama, cioè possiamo chiamarlo noi, metodo anteriano, perché c'è una corrente in ampere che produce un campo B. Un'altra tecnica invece, come vedremo tra poco, è quella di utilizzare dei magneti permanenti, cioè lo stesso circuito magnetico, identico a quello di prima, non ci metto più un circuito elettrico concatenato come se fossero gli anelli di una catena, vedete che sembrano quasi gli anelli di una catena, invece di fare così, faccio un taglio nel circuito magnetico, faccio un'avventura così e dentro questa avventura inserisco una maniera permanente, cioè un oggetto che ha determinate caratteristiche magnetiche e che produce lo stesso, e produce un campo B, ma non lo stesso perché ha caratteristiche particolari, però produce un campo B all'interno di quel circuito magnetico. Alla fine ho ottenuto lo stesso risultato, sia con la catena, sia con il magneto per me. Ora, quale dei due conviene di più? Beh, nel primo caso io devo generare un magneto frente, e nel primo caso purtroppo, ci sono gli inconvenienti grossi su due, primo mi devo procurare un generatore di corrente, oppure se c'è una certa resistenza in questo circuito magnetico, passerebbe un generatore di tensione e contare sulla legge di Ohm per produrre una certa corrente. Nel secondo caso, e quindi questo è il primo caso, succede che ci sarà una dissipazione dell'effetto cloud legata, sostanzialmente, infatti il terremoto, legata sostanzialmente alla circolazione di corrente in un circuito che è di rame, quindi non è, certo se fosse un circuito superconduttore avrei risolto il problema, e però sul circuito superconduttore sapete, anche voi magari qualcuno si tiene un po' di formato, ci sono grossi problemi tecnologici e insomma, anche lì il costo è elevato. Quindi, questo si può fare, però ovviamente comporta degli inconvenienti. Questa domanda, si può fare? E la risposta sarebbe sì, si può fare a condizioni che qui, per produrre a parità di condizioni, lo stesso campo B, non ci devo mettere un maniere permanente grosso, 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 e che questo maniere permanente alla fine non mi venga a costare un patrimonio. Quindi, che cosa, qual è stata l'evoluzione di questa situazione negli anni? Beh, vedete, qui c'è un grafico, sull'asse delle acisse c'è il tempo, espresso in anni, quindi proprio con la data, a partire da 1900 fino a 2000 rotti, e sull'asse delle ordinante c'è la densità di energia magnetica, cioè massima. Che cos'è la densità di energia magnetica? È il prodotto all'interno del magnetino, qui, come vedremo fra poco, del valore V per H. Quando più grande è questo valore, tanto più piccolo, a parità di flusso B, può essere il magnetino, e quindi tanto più performante può essere il mio circuito magnetico. Ora, fino a, che ne so, fino a 1970 circa, la tecnologia ci metteva a disposizione dei magneti permanenti che avevano un basso valore di densità magnetica, per cui se eressi voluto fare una macchina elettrica, un magneto permanente, riuscire a fare una macchina elettrica grande, grande, è naturalmente costosa. Poi, piano piano, sono stati scoperti dei materiali che hanno avuto la possibilità di darci una densità magnetica notevolmente superiore. Prima fra tutti il samario e il cobalto. Che cos'è il samario? Non è un materiale, non è un elemento. Sono due elementi, samario e cobalto. E non è una lega. Sono elementi che, messi sotto forma di polvere, vengono sinterizzati, cioè vengono schiacciati con pressioni elevatissime, tali di rendere questa polvere solida. Quindi, una volta fatta questa operazione, si ottengono dei magneti permanenti che hanno valori di B per H e B per il fungolo superano. Anche i 30, qui l'unità di misura, l'unità di misura imperiale, c'è quella americana, Mega Hersted, che può essere cambiata in quella metrica. Con il passare degli anni, ulteriori materiali sono stati individuati. Ad esempio, ne dico uno soltanto, quello che qui viene indicato come un colore un po' marrone, è il miollimio, ferro, boro. A parte il volo, a parte anche il volo, questi elementi, giusto per... Non è che la parola deve ricordare, la parola di vedere degli elementi, no? Giusto per farvi vedere di chi stiamo parlando. Non dici, ne dico il mio, ferro, boro, samarico, basso, ma dove stanno? Che razza è tu? Allora, per esempio, il mio digno sta qui. E fa parte delle cosiddette terre rare. Cioè, sono quegli elementi che si chiamano lantanoidi, anche se qui è indicato come lantanoidi, non si usa più questo termine, lantanoidi, e entrano all'interno già questa striscia qui, sta inserita dentro questo quadratino qui. Quindi hanno un elevato numero atomico e sostanzialmente sono difficili, non soltanto difficili da provare in natura, ma è abbastanza difficile la loro estrazione, perché le loro caratteristiche, cioè tutti lantanoidi, più o meno si assomigliano a tutti quanti tra di loro. Quindi sono sostanzialmente mescolati in natura, e poi dopo estrarle uno rispetto all'altro, comincia a diventare difficoltosi. Il loro costo non è dovuto tanto alla rarità degli elementi in natura, ma quanto alla difficoltà di estrarli. E poi gli altri elementi, Ferro, Nichel, sapete già dove si trovano, gli altri mi sanno anche da studio, ho segnato giusto per dare un'idea di qual è la loro collocazione all'interno della tavola periodica degli elementi. Salto queste diapositive che non sono particolarmente importanti, però è interessante quest'altra diapositiva. Questa diapositiva rappresenta il mercato dei magneti permanenti, più che il mercato, ma la loro reperibilità in natura. A un certo punto si dice piove sul bagnato, cioè dov'è che ci sono i più grandi giacimenti di terre rare e di materiali adatti a realizzazione di magneti permanenti ad alta densità di energia magnetica, in Cina. Ma in Cina è una cosa incredibile, sono nati tutti lì proprio, è una cosa un po' in Giappone, proporzionalmente, Cina e Giappone hanno la stessa, in più o meno, però in tutto il resto del mondo, incredibilmente non si riescono a trovare. Perfino negli Stati Uniti, uno scava negli Stati Uniti, non ha dato niente, quindi tutti quanti lì. E vabbè, questo che cosa ha comportato? Ha comportato che, primo, questi sono materiali da punto di vista industriale, e io direi anche militare, sono strategici, sono importanti, sono fondamentali, perché le loro caratteristiche hanno permesso di realizzare macchine elettriche più performanti, più leggeri, con una maggior densità di potenza, mi ricordo la densità di potenza, che cos'è? Il rapporto tra la potenza e il volume di una macchina elettrica, quindi sono più piccole, ma con la stessa potenza, oppure con maggior potenza, a parità di dimensioni. Quindi, vi lascio immaginare come siano importanti. e a questo punto, visto che la Cina ritiene praticamente il monopolio di questi materiali, vi lascio immaginare come molti ricercatori che studiano le tecnologie, i metodi per realizzare, progettare macchine elettriche, si stiano dedicando a metodi alternativi per produrre lo stesso campo. In realtà, metodi alternativi non è che ce ne sono, il metodo alternativo rimane sempre quello e quindi la strategia lì dove sta, sta nel riuscire a produrre lo stesso campo B riducendo al minimo possibile gli effetti negativi dell'eccitazione amperiana, cioè gli effetti dull, oppure andare a trovare il metodo per produrre quella corrente evitando e riducendo il più possibile le perdite connesse alla situazione di una corrente. qui c'è un'altra diapositiva che vi fa vedere anche l'aumento del prezzo, del costo dei manieri permanenti che si è verificato insomma negli ultimi decenni, non sono diapositive proprio aggiornate a ieri, però questo lo trovate, però questo, il prezzo, voi sapete, mi insegnate, non è l'unico legame con la domanda, maggiore la domanda più sale il prezzo, anche se non c'è una correlazione sempre di proporzionalità, può dipendere da tanti altri fattori, no, però come vedete qui il prezzo è salito davvero notevolmente che fa capire che la domanda mondiale di questi oggetti sia salita altrettanto in modo repentino. Benissimo, con questo per il momento abbiamo, diciamo così, chiuso sulle questioni materiali, però ora andiamo un po' poco più sul tecnico, cioè vediamo un attimo il magnete permanente come viene caratterizzato dal punto di vista magnetico, l'unica cosa che vi ho detto finora è che è importante la densità di energia magnetica, quindi il prodotto biperato, ma questo che vuol dire? Beh, allora, un magnete permanente abbiamo visto è un oggetto prodotto dalla sinterizzazione di uno o più elementi, però uno quando fa la sinterizzazione non è che il magnete permanente nasce tra un magnete, cioè uno produce questo gessetto per dire che anche questo sia più o meno sintetizzato o qualcosa del genere comunque il gesso compresso e facendo e immaginando che al posto del gesso ci fosse neodinio, ferro e bolo questo qui non nasce magnetico, non nasce magnete permanente per magnetizzarlo bisogna sottoporlo ad un ciclo di magnetizzazione, di prima magnetizzazione, cioè bisogna metterlo in un campo magnetico ad elevata intensità e fargli seguire una caratteristica di prima magnetizzazione che voi potete vedere qui sulla curva tratteggiata rossa. Dopodiché togliendo con gradualità il campo magnetico che è stato necessario per produrre il campo di prima magnetizzazione, il magnete permanente non ritorna sulla caratteristica di prima magnetizzazione come si sarebbe chiamata prima ma ritorna su una linea sostanzialmente retta che intesse dall'asse delle ordinate B dove è segnato il campo B e anche l'asse delle ascisse dove è segnato il campo H. in buona sostanza ridisegno questo diagramma di la navagna in buona sostanza attraversa il secondo quadrante B H HB e i punti di intersezione vengono indicati con B con N ma di induzione residua e con HC per il nome di forza coercitiva forza magnetica coercitiva B con R allora cerchiamo di capire questi due punti dal punto di vista pratico che cosa rappresentano questo punto qui ha ordinata uguale a 0 e scusatemi ascissa uguale a 0 e ordinata uguale a B con R dire che c'ha ascissa uguale a 0 vuol dire che il campo H è nullo allora immaginiamo quello che è successo al nostro magnete permanente durante il ciclo di prima magnetizzazione facciamo fin che abbiamo realizzato il circuito magnetico così di tipo anche di mano qui abbiamo fatto circolare una correglie in difficili però un generatore di potente e qui in mezzo abbiamo messo il nostro materiale sinterizzato inosinio sello Boro in F Boro come era F O ora questo oggetto qui quando la corrente viene fatta circolare non fatta circolare probabilmente perché il valore del campo H deve essere molto erogano dovrì che questa corrente viene tolta gradualmente quindi alla fine avremo un circuito che è molto simile a questo qui nel quale abbiamo un magneto che permanece per questo allora noi prima mettiamo la corrente poi la togliamo quando l'abbiamo tolta questo rimane un circuito senza corrente un circuito senza corrente che lo disegno a fare? va bene? quindi la differenza tra circuito magnetizzato e circuito non magnetizzato quindi campo H uguale a 0 qui abbiamo campo H uguale a N cioè G diviso L con M linea magnetica del circuito magneto che poi come vedremo sempre fra poco coinciderà con H uguale N per D diviso L qui c'è un equiloco sui simboli io prima ho usato L con M per indicare la linea media del circuito magnetico ora vorrei indicare la lunghezza del magneto permanente vorrei indicare quindi M è lo stesso metice in tutti i due casi quindi a questo punto scrivo L magneto L magneto va bene? per evitare confusione tra linea media e lunghezza del magneto del magneto comunque alla fine del processo di magnetizzazione mi trovo in questa situazione quando H è uguale a 0 H è uguale a 0 e che cosa succede? succede che qui se potessi andare a misurare il valore dell'induzione B troverai un valore di induzione che è diversa per sé quindi avrei un'induzione B che è uguale a B con E proprio perché il magnetino continua a sostenere questo valore di induzione B con E anche se non c'è nessun circuito elettrico che sta producendo campo H e quindi mi trovo esattamente in questo punto qui come veniamo di capire invece quest'altro punto qui dal punto di vista pratico che cosa mi rappresenta che vuol dire HC allora vuol dire che ci sta qualche cosa che sta producendo un campo H antagonista al magneto per me cioè negativo rispetto alle convenzioni che abbiamo fissato finora che sta eseguendo negativo e che farà in modo che il valore di B diventi uguale a 0 perché le coordinate di questo punto sono tra meno HC e del virgola B uguale a 0 lo metto tra la rendita anche ora è 0 e allora che cosa vuol dire vuol dire che per raggiungere questo punto dovrei far circolare nel mio circuito elettrico una corrente negativa cioè opposta a quella che è stata di prima la magnetizzazione quindi una corrente che va in questo senso qui ok tale per cui io produco un campo H che è uguale ad HC cioè meno HC in campo H meno HC producendo meno HC il punto di funzionamento si sposta lungo questa linea retta fino a raggiungere questo punto e il valore di induzione B in questo punto qui B diventa uguale a 0 diventa nullo chiaro? allora gli stadi che io ho immaginato sono tre primo prima magnetizzazione corrente che entra in questo circuito produce una magnetizzazione sul maniere permanente punto tolgo la corrente togliendo la corrente è come avere un circuito magnetico chiuso di questo tipo qui il maniere permanente sostiene un valore di induzione quanto vale questo valore di induzione ma vale B con L terza situazione che mi sono immaginato io la corrente viene viene iniettata al valore negativo cioè a contrario di come era stata imposta nel processo di prima magnetizzazione il maniere permanente non ce la fa più a sostenere B con L il valore di B prodotto dal maniere permanente anche dal circuito di eccitazione qui si riduce il punto di funzionamento si sposta verso il basso e se non esangelo con il valore di corrente cioè se faccio in modo che il campo H sia uguale a meno HC a questo punto il valore di induzione B diventa uguale a 0 ritorna 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 a 0 però aspetta che succede ora se ritolgo la corrente qui qualcuno potrebbe dire torna a 0 e 8 e invece no perché se tolgo la corrente di nuovo ritorno esattamente in quest'altra situazione cioè il magnete permanente è permanente proprio perché è permanente risostiene è in grado di risostenere di nuovo il valore di induzione B uguale a B con R quindi se io tolgo la corrente negativa il punto di funzionamento ritorna qui sopra fino al valore di B con R quindi questa linea qui è una linea che nei circuiti magnetici può essere del corso in un verso eppure nell'altro e il punto di funzionamento rimane su questa linea diverso sarebbe stato il caso se invece il materiale di un ferro di un quaderno si avessi messo il tanto ferro se avessi messo solo ferro a parte un piccolo ciclo di ferro che voi sapete che esiste il ferro allora si sarebbe cimagnetizzato quindi sarebbe ritornato al loro originario dell'altro quindi guarda noi cancelliamo il fatto di certi ferro quali sono vabbè qui a destra voi vi può interessare poco ma queste sono le varie leghe con le quali per non non niente per mai una delle caratteristiche vi dico solo questo a parte la densità di energia che può cambiare da lega a lega perché è una cosa normale no? cioè figuriamoci se può rimanere proprio la stessa quello che è importante tra lega e lega è la capacità di mantenere le caratteristiche magnetiche con la temperatura l'handicap più grosso dei magneti permanenti è il fatto che sono fortemente sensibili alla temperatura cioè se io prendo un magneto permanente e lo suddiscaldo tanto quello smette di essere magneto permanente allora vedremo nel dettaglio questo poi dopo che significa però questa è una delle caratteristiche degli enica più grossi dei magneti permanenti il sanario cobalto il sanario cobalto che purtroppo costo perché il cobalto è un elemento che è difficile da trovare in natura e costoso ha una densità magnetica più bassa ma ha una forte capacità di resistere anche alle alte temperature per cui ha applicazioni limite diciamo così magari viene una macchina elettrica più grossa con una densità di potenza minore però è una macchina elettrica che se può funzionare potrebbe funzionare anche a temperature molto più alta naturalmente la lavorabilità quello è un altro punto dolente cioè il gessetto qui non è che sia di saquanto lavorabile se io lo voglio piegare dopo come faccio a piegarlo non è che facilmente non è utile per nulla anzi utile da zero certo che però lo posso diciamo così scaffire lo posso lavorare lo posso limare quindi posso dare diverse forme un altro vantaggio pure è che una volta gli vari elementi costituenti i magneti una volta lavorati possono essere magnetizzati dopo per cui ho la possibilità di magnetizzarli in direzioni diverse in seconda della geometria e quindi in funzione delle applicazioni questo è un grande vantaggio che ho con appunto con i materiali sintetizzati l'ultima cosa che c'è da aggiungere è visto che abbiamo disegnato una una retta che in pratica rappresenta i punti di funzionamento di un magneto permanente all'interno di un circuito magnetico sarebbe opportuno scrivere l'equazione l'equazione di questa retta è simile a quella lì della dipendenza dei conduttori dalla temperatura perché qui c'è un'ordinata all'origine il coefficiente annorale è positivo e non la sto a scrivere più di tanto perché è uguale a b uguale mu con 0 per h per b con r dove mu con 0 è il coefficiente annorale di questa retta b con r è l'ordinata all'origine a questo punto vi dovrebbe saltare all'occhio un fatto importante che il coefficiente angolare di questa retta è proprio mu con 0 scusami io vado a dire per un altro che scrivo a fare è proprio un mu con 0 quindi questo vi fa capire che in maniera la permeabilità relativa dei materiali siderizzanti diodini e ferri cioè tutte queste cose qua purtroppo non è non so se purtroppo per fortuna purtroppo non è maggiore di 1 ma è uguale 1 la permeabilità relativa cioè solo come varia tutto sommato in realtà non è proprio 1 un poco poco di più ma è talmente trascurabile che nella maggior parte dei casi ci metto mu con r che è 4 pi greco per 10 mu con 0 che è 4 pi greco per 10 alla meno 7 anzi non lo scriviamo così l'ordinata mu con 0 ma è 4 pi greco più di fronte e quindi mu cos'è? mu uguale a 1 quindi mu mu uguale mu con 3 per i magneti permanenti quindi i magneti permanenti quando voi lo mettete in un circuito magnetico dal punto di vista del calcolo della rinunanza di quel circuito magnetico è come se ci metteste aria o che all'aria ci mettete anche un'induzione magnetica oppure ci mettete un campo H perché il campo del magneto è permanente però dal punto di vista della rinunanza del circuito magnetico è come se uno inserisse dell'aria è aria attiva dal punto di vista magnetico per dire una cosa che a volte sarebbe il caso non registrato però non fanno d'accordo? ci sono domande come vedete piano 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 stiamo spostando dalle chiacchiere che diciamo così raccontino dei materiali utilizzati nelle macchine elettriche a dettagli sempre più tecnici quindi sarebbe utile insomma se qualcuno ha dei dubbi qui ci sta un altro diagramma che però insomma è ovvio già ve l'ho raccontato è la dipendenza con la temperatura dei vari materiali utilizzati in maniera più come vedete il samara di basto occupa un reggi di temperatura molto ampio rispetto al neodinio se proprio al porro quindi già ve l'ho raccontato questa cosa benissimo allora abbiamo visto abbiamo visto prima posso andare avanti sì abbiamo visto che sul lungo la caratteristica in questo maniere ovviamente caratteristica del secondo quadrante del piano cartesiano Hb è che proprio per questo motivo si chiama caratteristica di smagnetizzazione anche se non è che smagnete si smagnetizza c'è una caratteristica in maniera permanente del secondo quadrante si scrive abbiamo scritto l'equazione e ci siamo spostati dal punto bidonette fino a punto HC cioè dal valore di magnetizzazione del residuo al valore di forza del residuo ma la domanda è esistono ovviamente punti intermedi che io potrei raggiungere raggiungere questi punti intermedi vedete questo puntino qui se io potessi andare a coprire questo punto qui di 2p basterebbe modulare opportunamente la corrente negativa che devo far circolare nel circuito magnetico invece di dare una corrente sufficientemente grande qui per raggiungere questo punto do una corrente un po' più bassa in modo tale che questo punto quando si trasferisce mi va chiesto fermo ma posso farlo anche senza corrente ovviamente è così cioè se io prendo un circuito magnetico di questo tipo qui invece di far passare la corrente potrei realizzare una una finestrella di aria cioè che cosa sto facendo sto interponendo nel circuito magnetico un elemento che ha una elevata riduttanza rispetto a quella del ferro cioè questo circuito magnetico qui che è chiuso ha una riduttanza molto alta e in un certo senso è come se stessi facendo lavorare un generatore di corrente chiuso in cortocircuito lo sapete dall'elettrodecnica che il generatore di corrente sono contenti di lavorare in cortocircuito perché hanno la possibilità di far circolare quella determinata corrente con una tensione a 10 lo stanzione a 10 ma certo se faccio un cortocircuito come lo faccio non è che lo faccio con una superconduttore lo farò sempre di grande per quanto grosso e bello consistente sia il cortocircuito in realtà qui sto mettendo una piccola resistenza la mettono R1 scrivo R1 che è un'essenza molto piccola è un'essenza del filo di rame immaginate prendere la batteria di un'automobile e metterci il filo di rame sopra passi un sacco di corrente da dentro perché ovviamente è un cortocircuito con un valore di resistenza molto in questo caso quindi non è una batteria di automobili perché non è un generatore di rame è un generatore di corrente perché qui dentro circolerà a B con L valore di a questo punto io purtroppo per voi forse vi confonderò le idee a volte scambio i termini di corrente con i valori di induzione B oppure di flusso ad esempio il più corretto di flusso che circola in un circuito di magnetico faccio dei paragoni elettrici con quelli magnetici quello che succede in questo caso qui potrebbe essere paragonato a questo cioè un circuito generatore di corrente che ha una corrente nominale pari a B con M scusatemi la corrente si dovrebbe scrivere di neopetico questo caso è ovviamente inteso e attraverso una resistenza che non è ovviamente in Ohm ma rappresenta il valore della rinuttanza del circuito magnetico che è tutta di ferro e siccome il ferro ha una elevata permeabilità ha una bassa rinuttanza che vuol dire che ha una bassa rinuttanza una bassa resistenza e quindi quindi invece che cosa succede se invece quindi questa resistenza qui siccome è bassa io la faccio così quando è basta la chiudo e non se ne parlo a tutti che cosa succede se inserisco un piccolo spazio di aria che noi d'ora in voi chiameremo traferro e traferro è un termine che ricordo spesso nelle macchine spessore che ne sono detta è come se in quel circuito magnetico stessimo introducendo un elemento ad elevata in realtà è come se nel nostro circuito questo qui non è più un generatore di corrente sia un generatore di tensione ci mettessimo una resistenza r più grossa e allora a questo punto la situazione è grande nel caso di prima qui abbiamo potremmo avere anche la resistenza interna c'è il generatore di tensione vedete avrò una piccola per me vedete come l'elettrotecchina ricorre pesantemente piano piano ricorre sempre di più quindi la raccomandazione che io mi feci una volta scusa cioè quella di andare a risstudiarlo tutti gli argomenti più importanti non tutto l'elettrotecchina ma gli argomenti più importanti del passato è fondamentale se avete qualche piccolo difficoltà nel ricordate certe cose anche se sono semplici vi prego di fermarmi e così magari ripassiamo insieme e quindi li vediamo insieme comunque in questo caso qui che cosa succede? succede che il valore di corrente qui sarà più di un'errore il valore di corrente sarà valore dal valore in direzione di diviso r più che è la serie delle due resistenze è una cosa disimile in questo caso qui prima cosa la prima cosa per dire è che la rincanza di questi tratti di circuito magnetico in ferro di questi tratti di circuito magnetico viene ora trascurata rispetto alla rincanza dell'aria perché la stessa cosa succedeva qui noi prima quando abbiamo trascurato la corrente nel circuito elettrico non abbiamo mica tenuto conto della abbiamo inizialmente tenuto conto della resistenza del filo ma quando ci abbiamo messo la resistenza edge non c'è mica venuto in mente di dire ah non guarda pure il collegamento qui c'è una resistenza pure questo collegamento qui c'è una resistenza no l'abbiamo trascurato l'abbiamo trascurato di proposito magari non ci abbiamo pensato ma l'abbiamo fatto la resistenza delle connessioni quindi abbiamo immaginato questo circuito come un circuito ideale formato soltanto dal generatore di tensione magari con la resistenza interna R con I con la resistenza esterna R ma per noi i collegamenti sono collegamenti ideali quindi di resistenza nucleare e la stessa cosa facciamo qui quindi questo circuito magnetico la caduta di tensione magnetica ai capi di queste connessioni in ferro viene trascurata rispetto alla caduta di tensione magnetica ai capi del traferro ecco allora come i due circuiti magnetici possono scrivere due relazioni leggermente diverse nel primo circuito magnetico visto che ci sta solo il ferro la resistenza del ferro non è che la possiamo trascurare sta solo con il come ve lo vedete vedete una cosa per cui la caduta di tensione ma che il il teorema di il secondo teorema di vi capito ve li ricordate i teoremi di Kirchhoff che sono importanti primo teorema di Kirchhoff dice che in un nodo la somma di tutte le correnti convergenti in quel nodo è uguale a la somma e che quindi io li devo sommare con questi segni per convenzione perché altrimenti non sarebbe uguale a certo secondo il teorema di Kirchhoff dice che in una rete complicata come volete voi individuate un percorso qualunque la somma di tutte le tensioni sui rami che compongono questo percorso prese sempre nel senso orario o anti-orario come scegliete voi non ha importanza basta che voi scegliate uno di questi la somma di tutte le tensioni è uguale a zero questi teoremi di Kirchhoff valgono anche per i circuiti magnetici quindi in questo circuito magnetico che cosa devo scrivere la tensione del generatore cioè Hm per L con M la tensione il circuito elettrico sarebbe la tensione V il circuito magnetico è la tensione magnetica cioè HL quindi Hm invece L con M deve essere uguale alla caduta di tensione magnetica lungo tutto il circuito magnetico che lì è indicato con Hk Lk vabbè punto naturalmente la somma della somma potesse uguale a 0 in un circuito di fece di questo tipo siccome tratturiamo le cadute di tensione magnetica lungo i tratti di un fece dovrei costruire che la tensione magnetica Hm per R con M dove Hm è il campo H del magnetico R con M è la lunghezza delle magnetiche permanente R con M ora non è solo la linea media fatemi scrivere solo M piccolo e basta non mi fate scrivere manco perché non mi viene più la caduta di tensione magnetica del traferro che lì viene indicato con Hg quindi Lg verso una fece qualcuno potrebbe dire io sono rigoroso facendo facendo per cui qui ci andrebbe pure più H il tratto 1 H1 per L con 1 più H2 per L con 2 che sono la caduta di tensione magnetica su questi due pezzi di ferro io non gli potrei dire di no c'hai ragione però se vado a vedere quanto vado con questi termini sono proprio piccoli rispetto agli altri per cui ovviamente non ci rimettiamo così come non li abbiamo mai sognati di mettere anche i circuiti elettrici guardate i circuiti elettrici ok quindi molto spesso nelle diapositive ha lo scopo di non farvi fare lo sforzo di sfogliare la diapositive vedere la penultima e poi quella di mezzo eccetera io faccio come incolga dell'ultima relazione della diapositiva precedente in quella nuova qui ci sta b m con 6 h più b con r che è come incolga dalla diapositiva precedente densità di flusso di induzione diamo nomi giusti induzione e densità di flusso sono sinonimi vi ricordo che sempre dalla famosa tecnica che se c'è un tubo di flusso cioè un tubo all'interno del quadro c'è un valore di induzione b che supponiamo essere uniforme cioè uguale a qui 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 e la sezione di questo tubo di flusso è s allora il valore di flusso fi sarà uguale a b per s b è l'induzione s è la sezione fi è il flusso è evidente allora che se faccio b diviso s cioè scusate fi diviso s ottengo b a questo punto b è il rapporto tra il flusso e la sezione e cioè la densità di flusso ecco perché a volte densità di flusso e induzione b ovviamente sono sinonimi densità di flusso è la traduzione un po' dall'inglese all'italiano perché in inglese l'induzione non è un termine usato si dice fax density in inglese fax density ovviamente traduzione è la densità di flusso e quindi molto spesso capita questa terminologia densità di flusso no per esempio a me hanno riduzione campo magnetico h in inglese il residuo b con r queste sono equazioni di questa retta rossa qui di questa retta rossa qui solo nel secondo quadrante veramente potrebbe essere nel primo e nel secondo quadrante perché poi dopo nel terzo quadrante quella non è più una retta si suette cambia direzione e non c'è più una retta quindi è ovvio che questa relazione qui vale solo nel secondo quadrante se no non è più relazione ehm andiamo avanti come vedete la prima relazione di queste relazioni copia in colla da quella precedente cioè hmlm più hg tlg ora sembrano un sacco di relazioni scritte eccetera avrei potuto condensare in un unico passaggio però allo scopo di fare proprio i passaggi uno per uno far vedere esattamente tutte le piccole sostituzioni che sono state fatte sembrano un sacco di relazioni però è estremamente semplice dal punto di vista concettuale i passaggi che si fanno uno e già ne abbiamo parlato è che è questo cioè il valore di b è dato il pass russo diviso la superficie s lì invece di utilizzare la lettera s scrivo la lavagna e uso le prime lettere che mi vengono in mente e poi mi dimentico nelle diapositive quali sono le lettere che ho usato per indicare l'area la superficie l'area della superficie lì ho usato la lettera a qui ho usato la lettera s perdonatemi però rappresentano la stessa cosa allora che cosa si vede lì? beh la prima cosa che si vede è che nel circuito magnetico bg per ag deve essere uguale a bm per am che vuol dire? noi stiamo supponendo stiamo supponendo che tutte le linee di flusso che passano attraverso l'unica magnetica permanente rimangono convogliate confinate all'interno del circuito magnetico e attraversano il trapeggio che non ci stanno linee di flusso che se ne vanno altrove che non ci siano flussi dispersi ricordate forse anche questa avete studiato i flussi dispersi non lo avete fatto non fa niente però le linee di flusso il campo magnetico diciamo alla vicine aumentando uscissene fuori dal circuito che uno gli ha programmato gli ha costruito intorno noi stiamo escludendo questa possibilità cioè stiamo dicendo guarda le linee di flusso stanno tutte confinate nel circuito magnetico allora che vuol dire che se il flusso phi è sempre lo stesso immaginare di avere un gruppo di flusso che questo qui in un certo momento si allanga che cos'è che rimane costante lungo questa sezione qui e lungo questa sezione qui facciamo la stagione che è un tubo dell'acqua che prima è grosso e poi è piccolo devo dire che la portata di acqua che sta qui deve essere uguale alla portata di acqua che sta qui questo si sfugge nel mio caso magnetico perdonatemi questi paragoni proprio terra e terra nel caso magnetico quello che rimane costante è il flusso quindi phi in questa sezione qui chiamiamola sezione 1 in questa sezione 2 phi con 1 e phi con 2 devono essere uguali il flusso è sempre lo stesso perché abbiamo immaginato che questo tubo non abbia perconte è un po' la stessa cosa che abbiamo detto prima non ci sono linee di flusso che se ne vanno cammina qui e la velocità dalla quale lato cammina qui cioè vuol dire che l'induzione in b con 2 è diversa dall'induzione in b con 1 perché se il flusso phi si deve mantenere costante e le due sezioni s2 e s1 sono diverse e allora è evidente che i valori di induzione devono essere diversi che cos'è che rimane costante b2 per s2 da s uguale a b1 per s1 che in quella diapositiva lì al posto di s dovete considerare la lettera A perché lì è indicata A come area per la stessa cosa quindi questa relazione qui bg per ag uguale bm per ag che vuol dire che il flusso che passa nel magneto deve essere uguale al flusso che passa nel trafeggio semplicemente e mi sembra una condizione accettabile no? non c'è nulla che vi possa scandalizzare nel primo passaggio abbiamo trasportato Hg e lg al secondo membro e abbiamo sostituito al posto di Hg che cosa? è molto semplice un'ulteriore relazione che vi dice che nell'aria 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 cioè B è uguale mu con zero che è Hg nell'aria al posto di B sta Bg al posto di H sta Hg e quindi abbiamo semplicemente sostituito Hg con Bg di iso mu con zero vi trovate vi trovate? vi trovate? o dopodiché ricaviamo anche Bg da questa relazione qui e l'andiamo a mettere al posto di Bg per cui alla fine esce fuori Hm e l'on m uguale meno Bm al con m diviso v con zero a G di per lg facciamo un piccolo rimaneggiamento di questa cosa cioè portiamo Bg al primo membro dopodiché portiamo tutto il resto al secondo membro va bene? per cui spero che voi non abbiate difficoltà a vedere come questa relazione qui e queste relazioni qui siano le stesse Bm è rimasto qui allora l'u con zero a G l'u con zero a G è stato portato sopra Hm e l'on m Hm e l'on m li troviamo qui e l'on g va sotto che c'è rimasto Bg perché abbiamo fatto questo rimaneggiamento? perché noi vorremmo esprimere questa relazione qui questa relazione in una forma canonica di una retta la forma canonica di una retta è uguale a Y uguale a X più B giusto? tra le altre cose qui B sembra essere uguale a zero perché non c'è nessun termine non c'è la somma di più termini stanno tutti i fattori e quindi la nostra forma canonica sembrerebbe essere questa ora Y nel nostro caso che cos'è? la Y è la B quindi perciò che abbiamo preso la B e l'abbiamo portata a primo termine per farla sembrare una Y la X per noi che cos'è? è la scissa e quindi H perciò abbiamo fatto in modo che andasse a finire al secondo termine che cosa ci rimane a fianco alla H cioè a fianco alla X ci rimane il cosiddetto coefficiente angolare quando vale sull'officienza angolare vale il prodotto di tutte queste costanti 1, 0, g, lm, l, etc ecc quindi riconoscerete che questa espressione qui è l'equazione di una retta un'equazione di una retta che passa per l'origine ha un coefficiente angolare negativo cioè il segno meno e quindi ha una retta che è quella rossa che io ho disegnato in quel diagramma quindi siccome questa qui deve essere rispettata insieme all'equazione dell'altra retta che rappresenta la caratteristica in maniera permanente e devono essere rispettate tutte e due insieme con il programma vuol dire che il punto di funzionamento è l'intersezione tra queste due relazioni è il sistema messo queste due relazioni messo a sistema e quindi il punto di funzionamento è questo puntino verde che è l'intersezione tra questa retta qui e la retta che abbiamo disegnato prima che abbiamo riscritto prima che è questa quindi riscriviamo di nuovo tutto e due la lavagna allora la prima retta è questa e l'equazione è B1 con 0 B1 più 1 più 1 H più B1 n giusto chi ha che è questa questa qui è la ricompria che la figlia è proprio un solo di termini sbagliati dettagli al lavoro Bm uguale meno 1 lungo 0 aglm diviso lg m lg e h m giusto quindi sono due retta questa retta qui si chiama retta di carico retta di carico questo punto qui c'è l'intersezione tra la retta di carico e la caratteristica del maniere rappresenta il punto di carico che c'è qui prima di andare avanti vorrei sapere se vi sembrano strano queste cose tutto a posto tutto chiaro limpido come il cristallo ma pare strano ditemi che posso andare avanti non vuole dire che vada va bene e vada adesso ora in realtà abbiamo finito dal punto di vista concettuale quello che ci rimane da fare è fare qualche giochino a vedere che cosa succede cambiando qualcuno di questi parametri ad esempio se faccio il traferro più lungo oppure se faccio il traferro stretto stretto oppure se faccio l'area del traferro più ampia oppure se la faccio stretta stretta oppure se cambio le dimensioni del magnete che cosa succede? ecco allora un po' di queste di queste cose le troverete qui allora questi che vedete sono alcuni piccoli esempi di quello che succede se partendo da una situazione iniziale che era prima il primo disegno che cosa succede se faccio Vg cioè il traferro no cioè il magnete più stretto se faccio il magnete più stretto il punto di funzionamento si sposta verso l'alto perché A con M è diremmo un coefficiente angolare più a grande sta al numero 2 e quindi il punto di funzionamento si porta verso l'alto che cosa succede se faccio il magnete più stretto cioè più di spessore minore diciamo così per non confondermi con la stessa frase in prima rispezione minore che punto di funzionamento si porta verso il basso perché naturalmente L con M mi pare che sta al denominatore se mi ricordo bene no sta al numero 2 che cosa succede partendo sempre da una condizione iniziale che è questa che cosa succede se faccio Vg Lg cioè la lunghezza del trafledro più corta più stretta allora in questo caso qui se Lg diventa più piccolo quindi funziona più sotto questo altro non vi sto a dire che succede la stessa cosa che faccia con G quindi queste cose per qui dici ma a noi ce ne importa tutto questo fatto qua e no ce ne importa perché perché ritorno un attimo metto un attimo questa diapositiva qui e ci rendiamo conto che in base alla posizione del punto di funzionamento cambia un parametro importante di quale parametro sto parlando sto parlando della densità di di energia magnetica quindi dell'energia magnetica specifica nel traferro perché fino a poi abbiamo parlato della densità certo dell'energia magnetica specifica nel magneve permanente ma anche nel traferro ci sta un campo H e ci sta un'induzione B quindi c'è un prodotto B per H quindi una energia magnetica specifica nella progettazione delle macchine elettriche allo scopo di sfruttare il più possibile il magneto permanente si deve cercare di far andare nel traferro quando ha più energia magnetica possibile allora uno potrebbe che faccio faccio un traferro grande grande oppure con un'area molto ampia ma il punto di funzionamento si sposta bisogna vedere dove sta spostando verso l'alto verso il basso oppure faccio un traferro stretto 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 molto sottile molto di spessore molto limitato vai a controllare un attimo che cosa succede all'energia specifica all'energia magnetica specifica nel traferro l'ideale sarebbe ottenere sempre il massimo possibile e allora se io devo ottenere sempre il massimo possibile può darsi che ci sia un ottimo tra le varie possibilità andiamo a vedere che cosa allora l'energia specifica l'energia specifica è sempre di H quindi per un determinato punto di funzionamento non è altro che il prodotto dell'ascissa e dell'ordinata di quel punto di funzionamento e il prodotto dell'ascissa e dell'ordinata di quel puntino verde non è altro che l'area di questo rettangolo la domanda è ma se io sposto quel punto verso l'alto quel rettangolo diventa sempre più stretto al limite l'area di quel rettangolo diventa uguale a 0 e se sposto il punto di funzionamento sempre più verso il basso succede la stessa cosa l'area di quel rettangolo diventa nulla allora io scavo una mia memoria di analisi 1 e mi ricordo un teorema di analisi 1 non so che voi vi guardate così tra di voi ci vuole fare di passare pure analisi 1 c'è un teorema che si chiama il teorema di Rolle che è legato al teorema di Baerstras io non lo so se queste cose le avete studiato o no penso di sì e che cosa dicevano cerco di andare a memoria quindi perdonatemi voi ce l'avrete sicuramente il flash di me quindi perdonatemi se commetto qualche inesattezza mi sembra dicesse che dato una funzione continua all'interno di un intervallo chiuso se questa funzione nulla agli estremi di questo intervallo sicuramente c'è un punto intermedio all'interno di questo intervallo che ha derivato uguale a 0 quindi la derivato uguale a 0 potrebbe significare che o questa funzione è nulla dappertutto quindi ovviamente hanno la derivato uguale a 0 oppure se è variabile sicuramente c'è un massimo un minimo o a dei massimi di nulla dentro quindi questo è il caso di far capire che siccome l'area di quel rettangolo è nulla ai due estremi in mezzo da qualche parte ci sta probabilmente un massimo o un minimo perché so che non è completamente nulla quella funzione è sicuramente diversa da 0 come il muro per esempio è diversa da 0 l'area di quel rettangolo e quindi quell'area di quel rettangolo sicuramente ha un massimo da parte a parte vi trovate? andiamo a provare questo massimo è proprio semplice è proprio banale anzi questo caso dovevo fare delle fume seccini però non fa niente allora l'equazione di questa retta è questa quindi x uguale a x più b l'equazione della retta della caratteristica del magnete permanente x rappresenta l'ordinata e x rappresenta la cifra quindi se sono un punto qualsiasi per calcolare l'area in funzione di x basta che moltiplico y per x quindi l'area è un'area ad a per x al quadrato più b in funzione di x voglio trovare il valore massimo di questa roba come si fa a trovare il valore massimo di una funzione cioè fare la derivata e si metto parazzeri nella speranza però date le condizioni che avevo detto prima questa cosa è fattibile e quindi faccio le a su di x per essere uguale a 2 a x più b e la metto uguale a 0 giusto? per cui x sarà uguale a b su 2 a ehm su susana ehm non è più più sì ok aspettate un secondo ma stiamo usando meno quindi a questo punto questo che vuol dire? vuol dire che per x uguale a questo termine qui c'è un valore che è l'idea che è l'area di questo testamento è la più grande che posso dire ok ok quindi l'obiettivo del progettista di loro a il progettista è quello di riuscire a ottenere questo risultato ora una delle caratteristiche importanti dei magneti permanenti era la stabilità con la temperatura non so se vi ricordate di riuscire di riuscire a precedente c'è un valenco delle caratteristiche dei magneti permanenti che una di queste diceva ma è stabile con la temperatura perché se è stabile mi fa piacere se non lo è è un problema che vuol dire stabilità con la temperatura allora in questa diapositiva viene chiarito il problema qual è per stabilità della temperatura si intende ma la retta caratteristica del magneto permanente rimane sempre una retta anche se cambia la temperatura la risposta purtroppo è no perché all'aumentare della temperatura quindi per T2 maggiore di T1 T3 maggiore di T2 T4 maggiore di T3 non è più una retta ma comincia a curvare in un certo modo dite voi è tanto piacere perché tanto se il punto rimane sempre su quella curva prima o poi ritorno da dove sono partito e invece no perché il punto di funzionamento ritorna da dove è partito soltanto se compie un percorso rettilineo ma se comincia a fare una piccola curva come è stato qui se comincia a fare una piccola curva arrivata a questo punto quando ritorna non ritorna più sulla curva originale ma si fa un'altra linea retta che è più bassa rispetto alla linea di partenza e quindi che vuol dire che il punto che indica l'ordinata all'origine cioè l'induzione residua si sarà attenuato cioè l'induzione residua non sarà più la stessa il magnete in una sostanza si è smagnetizzato non è più un magnete come lo era una volta è meno intenso il valore dell'induzione di e allora è imperativo il fatto che noi sul ginocchio della curva non ci dobbiamo andare e il ginocchio della curva non deve venire da noi è ovvio no? queste sono le due condizioni quindi se il magnete è permanente sensibile alla temperatura modificando la sua caratteristica dobbiamo stare attenti che i vari punti di funzionamento siano sempre su tratti retterine cioè non ci possiamo avvicinare all'asse delle ascisse non ci possiamo avvicinare all'appunto della forza coercitiva dobbiamo starcene lontani quindi è normale scegliere un punto di funzionamento che si trova per esempio in questa zona un po' più in alto diciamo anche qua del punto di funzionamento di massima energia magnetica di massima densità di funzionamento questo è la criticità più grossa dei magneti permanenti cioè la criticità è la difficoltà di mantenere il magnete permanente nelle sue condizioni originarie per l'età della macchina elettrica tenete presente che quando una macchina elettrica viene solicitata per esempio da uno sforzo una coppia improvvisa eccetera si generano delle correnti elettriche altrettanto rapide e di intensità notevole queste correnti elettriche di solito tendono a spostare il punto di funzionamento di più in basso cioè tendono a portare la soluzione più in basso quindi sono condizioni che dagli oggi dagli domani dagli dopo domani possono provocare la smagnetizzazione dei magneti permanenti e è ovvio che una macchina elettrica che deve durare 10 anni deve avere un punto di funzionamento quello che ha dei limiti di sicurezza rispetto a queste condizioni bene io sui magneti permanenti quindi sulla salvia avrei terminato quindi magari possiamo indietrondere con la registrazione